Noi abbiamo intrapreso una strada, dobbiamo percorrerla questa strada, abbiamo iniziato, poi ci possono essere delle deviazioni, noi dobbiamo andare su questa strada. Ovvio che è difficile, è cambiata anche la formula, le squadre sono tutte di buon livello, per cui vediamo. Con questa formula e con più squadre, più partite, c'è possibilità di recuperare eventuale scivolone. La roster adesso è di 12 giocatrici e sappiamo che giocando ogni tre giorni, che abbiamo già cominciato, quindi abbiamo giocato in Francia mercoledì contro la squadra che aveva già giocato tre partite di campionato, Maoni è ferma, noi dobbiamo essere in grado di sopperire a tutte queste situazioni e essere pronti a qualunque evenienza. La roster di 12 giocatrici ci può permettere di fare questo. È una giocatrice emergente, è una giocatrice che vuole affermarsi, è una giocatrice che appena è stata chiamata ha lasciato altre situazioni per venire in un campionato europeo, tra virgolette, perché poi è italiano, comunque giocare in Europa, dove sa perfettamente che è un trampolino di lancio molto molto importante. Quindi vuol dire che c'è la grande volontà di emergere, di uscire e di emergere e già dagli primi momenti che è qua si intravede un grande entusiasmo e una grande voglia e questo sicuramente aiuterà e coinvolgerà tutti. E' una voglia e un sorriso che entra nella voglia e nel sorriso delle altre giocatrici, della squadra, perché la filosofia della squadra è questa, è unica, esiste la squadra, esiste un lavoro di gruppo che prescinde da ogni singola giocatrice, per cui questo si sta riaffermando, si sta riacquisendo nella partita di domenica e dobbiamo continuare su questa strada.